Credo che ci dovrà andare lì il museo della civiltà contadina, come dissi l'altra volta. Andremo sicuramente all'inaugurazione del museo. Leggiamo ancora altri messaggi. Alessandro Belmonte dice grande Giuseppe, Antonia Di Pietro grandissimo sindaco, Antonia Belmonte numero uno. Tanti tanti consensi. Questi sono le persone di cui parlavo prima. Sono stati i nostri supporter ma soprattutto i nostri aiutanti. Questi che si sono impegnati hanno fatto non solo, non ci hanno solo votato, hanno fatto la campagna elettorale per noi, ci hanno aiutato nella comunicazione, ci hanno aiutato a spiegare alla gente quali erano i nostri obiettivi, qual era la nostra idea del paese e quindi ci siamo riusciti. Una fetta di popolazione attiva, quindi le chiedo, c'è qualche associazione a Bonito che promuove qualche attività che possa creare aggregazione sociale. Queste persone così attive fanno parte di qualche associazione? Non singolarmente. Quelli che vedo in questo momento no. Allora noi abbiamo delle associazioni, le classiche associazioni. Quindi il forum dei giovani che è una propannazione, diciamo, del comune. Uno dei pochi che funziona. Sì, funziona anche se vanno stimolati. Sono ragazzi molto giovani ovviamente nel forum, però vanno stimolati. C'è la Prologo che è l'associazione fondamentale. Io alle associazioni ho dato molto spazio fin dall'inizio del mio mandato. Noi abbiamo istituito un albo delle associazioni proprio per dargli la possibilità di accedere a fondi e a finanziamenti. Ovviamente finanziarli con le casse comunali diventa difficile. Piccole cose abbiamo fatte, ma le abbiamo fatte. Non c'è stato un solo anno che queste associazioni, che è la Prologo, non abbia avuto un finanziamento da parte del comune. Io sono nato nell'associazionismo. Da 16 anni già facevo parte della Prologo, anche se non poteva essere iscritto, ma ero un fiancheggiatore. Poi sono stato della Prologo per tantissimi anni. Non abbiamo mai avuto un contributo dal comune. Noi lo abbiamo sempre fatto, ne siamo orgogliosi. Quindi continueremo sicuramente su questa strada. Sindaco, intorno alle 18, penso che è finito lo spoglio, sui comuni, 18 e 30 di lunedì. La prima cosa che ha pensato è a chi ha dedicato questa vittoria? La prima cosa che ho pensato è che, oddio, è adesso altri cinque anni così. Perché non ci si mette. No, detta così qualcuno dall'altra parte dice, ma nessuno ha costretto. Nessuno ti ha obbligato. Però, insomma, è stata una grossa soddisfazione. Però, per la realizzi che hai cinque anni di duro lavoro. Perché io penso di essere stato uno che ha lavorato duramente. Ovviamente non si può che dedicarle alle persone che ti hanno dato la mano in tutto questo. Quindi mi riferisco alla famiglia, mi riferisco agli amici, mi riferisco a tantissima gente. Ma il primo pensiero è andato, ovviamente, a mio padre, che non c'è più da qualche giorno. Sarebbe stato da qualche mese. Non sarebbe stato sicuramente l'uomo più felice del mondo. Anche perché era un mio consigliere, il mio primo tifoso. Ed era la persona che mi sosteneva anche nei momenti più difficili, più complicati. Quindi sicuramente il primo pensiero è andato lì. Noi condividiamo e ci piace pensare che lo sia ugualmente, pur non essendoci. Lo spero. A parte, no, siamo... No, vabbè, ascolti storie che sono, a parte, storie bellissime. A parte il campo sportivo e il castello. La scuola, perché sono le prime cose che un amministratore deve mettere in sicurezza la scuola. Quindi so che sono iniziati i lavori da poco e saranno in altri lavori sul comune di Bonito. Allora, noi abbiamo fatto già un'elencazione di questi lavori. Noi abbiamo, a parte la scuola... Calcolate che noi non ce li ricordiamo. Abbiamo fatto 30 comuni in questo periodo, quindi ci stiamo... Lo capisco benissimo. Io mi ricordavo il museo della civiltà contadina. Lo ricordavo. Il castello. Il castello. Per chi ci sta ascoltando magari direi, oh, c'è scocciato. Dici sempre le stesse cose. Ancora, ancora, ancora. Per questo... Ma perché poi noi ce le segniamo, quindi poi... Per questo... Tra 100 giorni di... La scuola era fondamentale, ovviamente. Abbiamo iniziato il lavoro il 16 maggio. Da lunedì il cantiere sarà operativo al 100%. Quindi questa è un'opera fondamentale, lo dicevamo. Sul campo sportivo abbiamo già parlato. C'è da completare il convento francescano, perché lì noi abbiamo altri 500 mila euro da utilizzare. Quindi sarà completata l'area e altre due strutture che sono nelle pertinenze del castello. Oltre che sarà ovviamente riempito con suppellettile e completato all'interno. E poi c'è il grosso lavoro della riqualificazione urbana. Dobbiamo completare la rete fognaria. Quindi abbiamo un progetto di 1 milione e 400 mila euro che abbiamo già mandato a gara. Quindi accelereremo i tempi. 1 milione e 400 mila euro all'interno del paese. Poi abbiamo una riqualificazione su un via Roma e via 4 novembre per rifacimento dei marci a piedi per 300 mila euro. Quindi noi abbiamo opere complessivamente in appalto per circa 7 milioni e 200 mila euro. Credo che nessun comune della provincia di Avellino sia in queste condizioni in questo momento. E poi c'è da mettere male al dissesto idrogeologico, perché lì c'è una preoccupazione seria nel paese. Anche lì ci sono opere importanti. Non abbiamo quantificato in circa 13 milioni di euro. Credo che potremmo muoverci per arrivare a parte di questi fondi, per cominciare a mettere in sicurezza quantomeno la parte più vicina al centro abitato. Sulla zona PIP? La zona industriale è un grosso punto nevralgico. Di cui parliamo da dieci anni. È il confino con Mirabella. È l'unico PIP intercomunale, quindi Bonito e Mirabella. Lì scontiamo dei ritardi enormi. Il comune di Mirabella, che è il comune capofila, ha abbandonato quel PIP per molti anni. Quindi adesso siamo a delle problematiche serie per quanto riguarda il collaudo. Perché lì c'è stata una cosa che io, quando ero minoranza, non ho esitato a definire scandalosa. Lì c'è stato un movimento di terra e soldi, anziché essere un movimento virtuoso per far nascere quell'area industriale. Oggi quell'area industriale manca ancora delle infrastrutture più importanti, che sono la rete fognare, l'elettrificazione, l'acquedotto, che è stato solo in parte iniziato. Quindi bisogna accelerare velocemente. L'altra cosa da fare è quella di semplificare le procedure di assegnazione dei lotti. Perché sono molto, molto complicati. E non è possibile che un'impresa che debba venire lì ad acquisire un lotto, deve fare prima tutta una serie di operazioni e di pastoie burocratiche che hanno un costo economico e soprattutto in tempi. Perché è molto appetibile vendere un'area a 12,5 euro al metro quadro. Ma bisogna anche mettere in condizione che chi ci arriva là sopra può operare immediatamente. Se mancano le infrastrutture non sono immediatamente fruibili. Mancano queste opere importanti e quindi lì, adesso ovviamente il Comune di Mirabella ha dovuto anche scontare il ritardo dovuto al commissariamento. Con il nuovo sindaco cominceremo a lavorare. Lo chiederemo dopo di lei, sarà qui con noi Ruggero. Sicuramente, con Ruggero lavoreremo insieme per completare finalmente quest'area. Che poi si parla anche di zona ZES a Valle Ufida, altro cemento da mettere quando abbiamo tanti capannoni abbandonati. Ma la ZES potrebbe essere un'opportunità importante perché le ZES non hanno una destinazione a cementificare. Il valore della zona ZES è quello di semplificare le procedure e un accesso più rapido ai finanziamenti. Allora se la zona ZES viene interpretata in questo modo e l'area industriale di Bonito potrebbe rientrarci. Anche in questo potrebbe essere un grosso vantaggio. Se invece vorrà essere altro, allora sarà una delle solide cose. Conosciamo bene l'Ispinio. Conosciamo i mali dell'Ispinio. Giacomo Coviello dice adesso si raccoglieranno i frutti del tuo grande lavoro fatto in questi cinque anni passati avanti così. Marco Cotugno, grande uomo, grande sindaco. Io li ringrazio personalmente perché si vede che c'è anche una stima personale che probabilmente mi sono guadagnata con il mio lavoro e i miei modi e quindi ne vado molto fiero, la conservo con molto orgoglio. Sindaco, relativamente alle assegnazioni degli assessorati. Mi ha rubato la domanda. È andata ormai. È una valutazione che faremo insieme. Ecco io non ho non solo decisione che prenderò in prima persona. Quindi ci riuniremo tutto il gruppo. Credo che noi faremo l'insediamento il 15 giugno al 90%. Probabilmente lo faremo il 15 giugno perché queste sono le date che più o meno abbiamo individuato e quindi prima di quella data ci riuniremo e tutti insieme decideremo non solo le deleghe ma anche le varie cariche all'interno. Ma il sindaco baserà molto anche sui voti? Avrà in mente già qualche persona adatta a qualche assessorato oppure si deciderà? Hai già deciso? No, sono agevolato su questo perché i primi due eletti hanno preso entrambe 165 voti. Quindi lancerò la moletina. Una donna e una punta rosa. Lancerò la moletina a quel punto e vedremo quello che succederà. E un'altra cosa che farò certamente io affiderò una delica ad ognuno dei consiglieri. Ognuno dei consiglieri eletti avrà una delica quindi avrà la possibilità di lavorare per il comune, e darà una mano per il comune e troveremo il modo anche per coinvolgere i tre consiglieri che non sono stati eletti. Noi abbiamo nel comune di Bonito istituito le consulte comunali che credo che siano molto importanti. Debbano funzionare e quindi queste persone lavoreranno all'interno delle consulte. Sarà anche data qualche delega esterna? No. Tutto solo sulla lista? Sì. Antonino Lo Sanno dice Grande Giuseppe, Adriano De Pasquale Grande Sindaco. E questo forse è un mio parente, quindi... Sì, non lo diciamo. Vabbè, stasera arrivano solo i complimenti. I complimenti. Gioca facile. Si esprimono tutti quanti. Gioca in casa, mi piace vincere facile, adesso sì. Sì, no, che estate si prospetta per Bonito? Ma la classica estate, poi Bonito nell'estate si trasforma. Appunto. Bonito, la popolazione era doppio-triplica perché c'è ancora questa usanza da parte di coloro che stanno fuori di rientrare nel paese nel periodo estivo, quindi nel periodo soprattutto dal primo al 20 di agosto. Noi, come abbiamo fatto sempre, credo, inventeremo, troveremo il modo per organizzare un evento per ogni giorno di agosto perché è bello stare insieme, perché è così che si sta insieme, perché è così che cresce anche il modo di conoscersi, la possibilità di conoscersi tra le persone. Ad oggi cosa dice alle forze di opposizione? Che messaggio vuole mandare? La campagna elettorale è chiusa, io l'ho scritto in un post ieri sera perché leggevo delle scorie che non mi sono piaciute, la campagna elettorale è finita, nessuno ha cercato di truccare nulla né da parte di chi ha vinto le elezioni né da parte di chi le elezioni le ha perse, ora bisogna guardare oltre, quindi rimbocchiamoci le maniche perché quello che bisogna fare adesso è lavorare per il paese. Noi sappiamo, l'ho detto io in prima persona come amministratore uscente, l'hanno detto coloro che si opponevano in quel momento e che cercavano di vincere le elezioni che Bonito ha bisogno di molto, allora se Bonito ha bisogno di molto vuol dire che molto lavoro c'è da fare, questo lavoro lo possiamo fare insieme, lo possiamo fare con la prospettiva di voler bene a Bonito. E a Bonito c'è anche Antonio Di Pietro che dice, bravissimo Giuseppe, ci manca l'estate bonitese. Ci porterà il mare? Assolutamente, abbiamo già ordinato quindi credo che arriverà. C'erano due vice sintesi della grande delle Valle Ufido, disse se mi votate vi porto il mare con un po' d'anno. Arriverà giorni quindi ci siamo già interessati. Sì, ma penso che un'analisi sommaria una riesce a farla dei voti ottenuti, secondo lei è cambiato il suo elettorato in qualche parte o è riconfermato in tutto? No, riconfermato in tutto no, noi abbiamo avuto anche condizioni di astensione al voto, io ho fatto fatica a comprendere e ancora adesso faccio fatica a comprendere perché la non scelta credo che sia sempre un errore in politica, ma in un paese piccolo come quello nostro, come il paese di Bonito ancora di più. Quindi certamente abbiamo avuto delle defezioni, abbiamo recuperato in altri settori, in altre zone del paese, abbiamo fatto un lavoro importantissimo credo nella frazione Morroni che è una di quelle più importanti del paese, ma anche in tutte le altre zone perché è vero che non si divide il paese in zone, ma è anche vero che ci sono delle zone particolari, importanti, delle contratti importanti del paese che non possono più essere trascurate. Se noi abbiamo fatto questi errori dobbiamo emendarlo, se lo abbiamo fatto nel passato, quindi siamo pronti a farlo, abbiamo le persone per farlo, abbiamo dei candidati che rappresentano quella zona, ma non nel senso che debbano occuparsi solo di quella zona, ma che possono essere megafoni dei problemi delle zone stesse. Ha toccato Morroni, quindi un occhio di riguardo sul fiume Calore che passa proprio per Ponte Rotto, quindi lì bisogna... Penso che siamo in chiusura. Siamo in chiusura, siamo in chiusura, abbiamo parlato di programmazione, di impressioni, di campagna elettorale. C'è da dire, bisogna fare una piccola... Che c'è? Non ha portato una bottiglia di spumandolo... È arrivato il momento della polemica. No, non ha portato una bottiglia di spumandolo, non ha portato un bastuccino, vabbè. Andiamo alla festa. Ritornerà, dopo il primo mese di mandato li facciamo tornare tutti. Non solo l'ho fatto per farvi venire alla festa, ma anche per essere invitato di nuovo, io sono un presenzialista, quindi voglio essere invadente, quindi voi mi aiuterete a divulgare. Arriva qualche messaggio dalla famiglia, Jennifer De Pasquale, buon lavoro zio. Grazie Jennifer. Bene, noi siamo in chiusura con il sindaco di Bonito, Giuseppe De Pasquale, al quale facciamo ancora tanti tanti auguri a lei e la sua formazione. Per qualsiasi cosa siamo qua, andiamo alla festa. Poi ingrazziamo. La facciamo in diretta. Poi si arrabbiano dall'altra parte. Andiamo da tutti. Ma invitiamo anche loro. Invitiamo anche loro. Andiamo da tutti. Va bene, sindaco, noi la ringraziamo. Per qualsiasi cosa, noi siamo a disposizione, specialmente sulle cose belle, noi siamo a disposizione. Poi saremo i primi a criticare su qualsiasi cosa che va male, quindi ricordatevi questa cosa. Lo diciamo a tutti questo. Va bene, noi ci fermiamo giusto due minuti. Al rientro Giancarlo Ruggero con il neo eletto sindaco di Milano. E io saluto ovviamente, saluto Giancarlo. A fra poco. GRT Emozioni in Musica